Ivo Andric, racconti di Bosnia, il ponte sulla Jepa, Most Najepi. Al quarto anno del suo governo, il gran vizir Yusuf, vittima di un pericoloso intrigo, cadde improvvisamente in disgrazia. La lotta durò per tutto l'inverno e la primavera. Era una primavera cattiva e fredda che non permetteva all'estate di esplodere. Ma col mese di maggio Yusuf uscì di prigione vittorioso e la vita ripresa a scorrere luminosa, tranquilla, sempre uguale. Ma di quei mesi invernali, quando fra la vita e la morte e fra la gloria e la rovina non c'era nemmeno la distanza di una lama di coltello, rimase nell'animo del vizir vincitore un sentimento di abbattimento e di inquietudine. Qualcosa di indicibile che la gente di esperienza che ha sofferto custodisce dentro di sé come un bene profondo e che soltanto a volte si manifesta attraverso uno sguardo, un movimento, una parola. Vivendo rinchiuso in solitudine e in disgrazia, al visire ha tornato vivo il ricordo delle sue origini e della sua terra. Perché la delusione e il riconducono sempre i pensieri dal passato. Si ricordò del padre e della madre. Erano morti quando lui era ancora l'umile aiutante dello stagliere dell'imperatore e aveva fatto circondare le loro tombe con un muretto e innalzare bianchi turbe. Si ricordò della Bosnia e del villaggio di Gepa, da cui l'avevano portato via quando aveva nove anni. Era piacevole, nella disgrazia, pensare alla terra lontana e al suo villaggio di Gepa, dove nelle case sparse qua e là si favoleggiava della sua fame e del suo successo a Costantinopoli, e dove però nessuno conosceva né riusciva a immaginare la vera faccia della gloria e il prezzo pagato per il successo. Quella stessa estate ebbe l'opportunità di parlare con persone che venivano dalla Bosnia. Lui chiedeva informazioni e loro gli raccontavano le novità. Dopo le rivolte e le guerre erano sopravvenuti il disordine, la carestia, la fame e varie malattie. Predispose allora un considerevole aiuto per tutti i suoi, per tutti coloro che erano rimasti a Gepa, ordinando al tempo stesso, di valutare quali fossero le opere pubbliche di cui il paese aveva più bisogno. Gli fecero sapere che c'erano ancora quattro case degli Shetkic, i più ricchi possidenti del villaggio, ma che sia il paese che tutta la zona si erano impoveriti, che la moschera in rovina e semibruciata e la fontana secca. Ma quel che era peggio non avevano un ponte sul fiume Gepa. Il villaggio si trovava su un colle proprio là dove la Gepa si getta nell'adrina e l'unica strada per Visegrad passava oltre la Gepa, a una cinquantina di passi sopra la foce. Tutti i ponti costruiti in legno erano stati portati via dall'acqua. Infatti o la Gepa si ingrossava improvvisamente, come tutti i torrenti di montagna, così da svellere e abbattere i tronchi, oppure l'adrina si gonfiava, bloccando e sbarrando il corso della Gepa alla confluenza. Allora l'acqua cresceva e sollevava il ponte come un fuscello. D'inverno poi il ghiaccio si rapprendeva sul legno facendo scivolare le bestie e gli uomini. Chi avesse costruito lì un vero ponte avrebbe fatto la più meritevole delle opere. Il visir donò sei tappeti per la moschea e il denaro necessario per costruirvi davanti una fontana con tre bocche e contemporaneamente decise di costruire il ponte. A Costantinopoli, allora, viveva un architetto italiano che aveva costruito alcuni ponti nei dintorni della città, diventando famoso. Fu contattato dall'Asnadar, cioè dal tesoriere del visir, e inviato con altri due uomini di corte in Bosnia. Giunsero a Visegrad che c'era ancora la neve. Per alcuni giorni i cittadini stupiti guardarono l'architetto che, un po' curvo e imbiancato, ma giovane e rosio in volto, ispezionava il grande ponte di pietra, lo batteva, sbriciolava fra le dita e poi saggiava sulla lingua la malta dei giunti, misurando a lunghi passi le aperture delle arcate. In seguito si recope qualche giorno a Bagna, dove erano le cave da cui era stata estratta la pietra per il ponte di Visegrad. Ingaggiò gli operai e fece scavare il fossato, ormai completamente pieno di terra franata, circondata da alberelli. Gli operai scavarono finché non trovarono un filone di pietra più bianca e più in profondità di quella usata per il ponte di Visegrad. Da lì l'architetto scese lungo Ladrina, fino alla Gepa, per decidere il posto in cui sarebbe stata traghettata la pietra. A quel punto uno degli uomini del visir tornò a Costantinopoli con il preventivo e il progetto. L'architetto rimase ad aspettare, ma non volle abitare né a Visegrad né in nessuna delle case di cristiani sovrastanti la Gepa. Su un'altura, proprio dove Drina e Gepa si incontrano, si fece costruire una baracca. Gli fecero da interpreti un chiatib di Visegrad e uno degli uomini del visir. E lì andò ad abitare. Si cucinava da solo. Comprava dai contadini uova, panna, cipolla e frutta secca. Carne, dicono, non ne comprava mai. Tutto il giorno disegnava qualcosa, tagliava, esaminava le varie specie di pietre oppure osservava il corso e la direzione della Gepa. Nel frattempo tornò da Costantinopoli il funzionario con il benestare del visir e con un terzo della somma stanziata. Iniziarono i lavori. La gente non si stupiva mai abbastanza di quella strana opera. Non assomigliava affatto a un ponte quello che si stava costruendo. Prima piantarono diagonalmente da una parte all'altra della Gepa pesanti tronchi di abete e, fra loro, due palizzate parallele che intrecciarono con tradicci di vimini colbando i vuoti con l'argilla, come una diga. Così deviarono il fiume, lasciandone in secca una metà. Avevano appena finito che un giorno improvvisamente da qualche parte in montagna scoppiò un ubifragio e subito la Gepa si intorbidì e si ingrossò. La stessa notte sfondò la diga ormai finita. All'alba del giorno dopo l'acqua si era già abbassata, ma l'impalcatura era spaccata, i tralicci strappati, i paletti ritorti. Fra gli operai e fra la gente si cominciò a mormorare che il fiume non voleva essere domato dal ponte. Ma già il terzo giorno il costruttore ordinò di intrecciare nuove fascine, ancora più strette, e di raddrizzare e aggiustare i paletti rimasti. E di nuovo, dalle profondità, il letto sassoso del fiume risuonò di martellate, grida degli operai e colpi ritmati. Solo quando tutto fu predisposto e finito, la pietra arrivata dalla cava di Bagna, giunsero muratori e scalpellini dall'Herzegovina e dalla Dalmazia. Per alloggiarli furono costruiti capanni di legno davanti ai quali essi tagliavano pietre, bianchi come mugnai per la polvere di marmo. L'architetto girava continuamente nei paraggi e ad ogni momento si chinava su qualcuno per misurare il lavoro con una squadra gialla di metallo e con un filo a piombo appeso ad un cordoncino verde. Avevano già tagliato da una parte e dall'altra la riva scoscesa e sassosa quando finirono i soldi. Gli operai cominciarono a manifestare loro malcontento e la gente ripresa a mormorare che del ponte non se ne sarebbe fatto nulla. Alcuni arrivando da Costantinopoli dicevano che il visivo era cambiato. Nessuno sapeva cosa gli fosse successo, se fosse malato o se avesse delle preoccupazioni, ma di fatto era sempre più irraggiungibile, più distratto e finiva per lasciare andare in malora anche i lavori iniziati nella stessa capitale. Ma pochi giorni dopo arrivò un uomo del visir con il denaro e la costruzione proseguì. Quindici giorni prima della festa di San Demetro, il 26 ottobre, la gente che attraversava la gepa sul ponticello di legno un po' più a monte del cantiere notò per la prima volta come da ambedue le sponde del fiume, dalla roccia grigioscura di Ardesia, si ergeva un muro bianco levigato di pietra squadrata, circondato da ogni parte da impalcature come da una ragnatela. Da allora il ponte crebbe ogni giorno, ma presto soggiunsero le prime gelate e i lavori si interruppero. I muratori tornarono alle loro case per svernarvi e l'architetto restò a trascorrere l'inverno nella sua baita, dalla quale non usciva mai, sempre chino sui suoi progetti e sui suoi calcoli. Non si muoveva mai. Si limitava a ispezionare spesso il cantiere. Quando in primavera il ghiaccio cominciò a rompersi, lo si vedeva per lustrare senza sosta, preoccupato, le dighe e le impalcature, qualche volta anche di notte, con in mano una torcia. Prima di San Giorgio, festa ortodossa che cade in primavera, i muratori tornarono e i lavori ripresero. Terminarono proprio a metà estate. In festa gli operai torsero le impalcature e da quel groviglio di tavole e paletti emerse il ponte, elegante e bianco, proteso sopra un'unica arcata, dall'una all'altra riva. Tutto si sarebbe potuto immaginare, ma non una costruzione così bella, in un posto così remoto e isolato. Sembrava che le due rive avessero lanciato l'una verso l'altra zampilli spumeggianti di acqua e che questi zampilli scontrandosi e unendosi in un arco fossero rimasti per un momento sospesi nell'aria, sopra l'abisso. Sotto l'arcata si intravedeva in fondo all'orizzonte un tratto della livida drina, mentre sotto il ponte gorgogliava la gepa, schiumante e domata. Per molto tempo gli occhi non riuscirono a distogliersi da quest'arco dalle linee immaginose e sottili, che sembrava essersi impigliato in volo su quelle aspre rocce scure, coperte di muschio, pronto a riprendere lo slancio e a sparire alla prima occasione. Dai villaggi vicini la gente accorsa ad ammirare il ponte. Vennero persino da Visegrad e da Rogatizza per vederlo, rammaricandosi che una simile meraviglia si trovasse in quel luogo deserto e selvaggio e non nelle loro città. Bisogna dare i Natali a un vizir, rispondevano quelli di Gepa, battendo col palmo della mano sul parapetto di marmo che era dritto e a spigoli a guzzi, come fosse tagliato nel formaggio e non nella pietra. Mentre i primi stupiti viandanti attraversavano il ponte, sostando ammirati, l'architetto pagò gli operai, imballò e caricò le sue casse con gli strumenti e le carte, e insieme con i due uomini del vizir ripartì per Costantinopoli. Solo allora, per villaggi e città, si cominciò a favoleggiare sul suo conto. Selim, lo zingaro che sul suo cavallo gli aveva portato i bagagli da Visegrad, era stato l'unico a entrare nella sua capanna. Seduto nelle botteghe raccontava per l'ennesima volta tutto quello che sapeva sullo straniero. Non era un uomo come gli altri. Lo scorso inverno, quando non si lavorava, passavo anche dieci, quindici giorni senza che lo vedessi, e quando tornavo tutto era in disordine come quando l'avevo lasciato. In quella capanna ghiacciata se ne stava seduto con il colbacco dorso in testa, avvolto nelle coperte fino alle braccia che sole uscivano fuori, livide per il freddo. E lui sembra a raschiare quelle pietre, a tagliare, a scrivere qualcosa, e poi di nuovo raschiava e annotava. Io scaricavo e lui mi osservava con i suoi occhi verdi, le sopracciglia alzate che sembravano volerti penetrare. E senza parlare, senza un brottolio. Uno così non l'ho mai visto. E poi, gente mia, avete visto quanto si è tormentato per un anno e mezzo. Quando ha terminato ed è partito alla volta di Costantinopoli, lo abbiamo trasportato con la chiatta oltre fiume. Qui è salito il cavallo e, credetemi, non si è voltato indietro nemmeno una volta, né per noi, né per il ponte. Pensate, nemmeno una volta. Incredibile. Ora i bottegai lo interrogavano sempre di più sull'architetto e sulla sua vita, sempre più meravigliati e dispiaciuti di non averlo osservato meglio e con maggiore attenzione mentre passava per i loro vicoli. E intanto l'architetto era in viaggio e, quando giunse a due giorni da Costantinopoli, si ammalò di peste. Febbricitante, reggendosi a malapena in sella, arrivò in città. Subito si recò all'ospedale dei francescani italiani e l'indomani, alla stessa ora del suo arrivo, spirò tra le braccia di un frate. Il giorno seguente, al mattino, avvisarono il visir della sua morte e gli portarono i conti in sospeso e i progetti del ponte. Aveva ricevuto solo un quarto della sua paga. Dietro di sé non aveva lasciato né debiti, né denaro, né testamento, né tantomeno eredi. Dopo aver pensato a lungo, il visir dispose che dei tre quarti della somma che restava, uno andasse all'ospedale e gli altri due fossero destinati a un' istituzione intitolata a suo nome, che avrebbe dovuto dare pane e minestra ai poveri. Stava giusto dando queste disposizioni quando, era una tranquilla mattinata di fine estate, gli recarono la richiesta di un dotto e giovane insegnante di Costantinopoli, nativo della Bosnia, che scriveva versi e che di tanto in tanto il visir aiutava e beneficiava. Aveva sentito parlare del ponte che il visir aveva fatto costruire in Bosnia e sperava che, come tutte le opere pubbliche, vi sarebbe stato inciso l'anno della costruzione e il nome del benefattore. Come sempre, anche ora offriva i suoi servigi al visir e lo pregava di approvare l'iscrizione che gli inviava e che aveva composto con grande impegno. L'iscrizione era finamente vergata su una pergamena. Le iniziali erano rosse e dorate. Quando il buon governo e la nobile arte si porsero la mano l'un l'altra, nacque questo meraviglioso ponte, gioia dei sudditi e orgoglio di Yusuf, in questo mondo e nell'altro. Sotto c'era il sigillo in ovale del visir, diviso in due campi asimmetrici. Nel più grande era scritto Yusuf Ibrahim, vero servo di Dio. Nel più piccolo il motto del visir, nel silenzio e la certezza. Il visir rimase a lungo seduto con la richiesta fra le mani, le braccia allargate, con una mano poggiata sull'iscrizione inversi e l'altra sui conti dell'architetto e il progetto del ponte. Negli ultimi tempi meditava sempre più a lungo sugli atti e le petizioni. Quell'estate erano ormai passati due anni dalla data della sua caduta in disgrazia e del suo arresto. Nei primi tempi del suo ritorno al potere non si era notato alcun cambiamento nel suo modo di essere. Era ancora negli anni migliori quando si conosce e si assapora tutto il valore della vita. Aveva sconfitto tutti i suoi avversari ed era più forte che mai. Dalla profondità della sua recente caduta poteva misurare la forza del suo potere attuale. Ma più il tempo passava più invece di dimenticare il pensiero gli tornava alla prigionia. Se talvolta riusciva a scacciare i propri pensieri non aveva però il potere di evitare i sogni. In sogno cominciò ad apparirgli il carcere e di quei sogni notturni qualcosa di orribile ed indefinito finiva per passare nella realtà e gli avvelenava le giornate. Diventò più sensibile alle cose che aveva intorno, cose di cui prima non si accorgeva nemmeno, ora lo disturbavano. Ordinò che venissero rimossi tutti i velluti del palazzo e che fossero sostituiti con stoffe chiare, lisce, soffici, che non stridessero al tatto. Bandì la madre perla perché nel pensiero la collegava con un deserto gelido e un luogo solitario. Gli era sufficiente toccare la madre perla o solo guardarla perché gli battessero i denti e i brividi gli percorressero il corpo. Tutto il vasellame e le armi che la contenevano furono eliminati dalle stanze. Cominciò ad accogliere tutto con una celata ma profonda diffidenza. Da qualche parte si insinuò e prese forza in lui un pensiero. Ogni opera, ogni parola umana possono provocare il male. Iniziò a scorgere questa possibilità in ogni cosa che sentiva, vedeva, diceva o pensava. Il visir vittorioso ebbe paura della vita. E così, senza accorgersene, entrò in quello stato che è la prima fase della morte, quando si comincia a osservare con più interesse l'ombra creata dagli oggetti che non gli oggetti stessi. Questo male lo rodeva dentro e lo annientava. Non riusciva nemmeno a pensare di confessarlo o confidarlo a qualcuno. Quando avesse portato a termine la sua opera e fosse emerso in superficie, nessuno l'avrebbe riconosciuto. La gente avrebbe detto semplicemente, è la fine. Perché gli uomini non immaginano nemmeno lontanamente quanti sono i potenti e i grandi che in modo così rapido, invisibile e silenzioso muoiono interiormente. Anche quella mattina il visir era stanco e assonnato, ma calmo e tranquillo. Le sue palpebre erano pesanti e il volto come congelato dal fresco mattutino. Pensava all'architetto straniero che era morto, ai poveri che si sarebbero sfamati con la sua paga. Ritornava col pensiero alla lontana, montagnosa, oscura terra di Bosnia. Pensando alla Bosnia aveva sempre percepito qualcosa di tenebroso, che nemmeno la luce dell'Islam era riuscito a illuminare, se non parzialmente, dove la vita scorreva senza gentilezza e bellezza, povera, dura, aspra. E quante altre terre simili esistono in questo mondo di Dio? Quanti fiumi impetuosi scorrono senza ponti e guadi? Quanti villaggi senza acqua potabile? Quante moschee senza ornamenti e bellezza? Nei pensieri gli si schiudeva un mondo brulicante delle più disparate necessità, oppresso dai bisogni e paure in varie forme. Il sole splendeva sul verde tetto del padiglione nel giardino. Il visir gettò uno sguardo sull'iscrizione. Rilesse i versi, sollevò lentamente la mano e cancellò due volte tutto il testo. Si fermò per un attimo, poi cancellò anche la prima parte del sigillo, quella che recava il suo nome. Rimase solo il motto, nel silenzio e la certezza. Vi si soffermò ancora un po', poi alzò di nuovo la mano e con un gesto deciso cancellò anche quello. Così il ponte rimase senza nome e senza targa. Laggiù, nella lontana terra di Bosnia, brillava il sole e risplendeva sotto la luna, trasportata dall'una e dall'altra parte uomini e bestiame. Un po' la volta, quel mucchio di terra ammonticchiata e gli oggetti sparsi che circondano sempre ogni nuova costruzione scomparvero. La gente li disperse e l'acqua si portò con sé le palizzate rotte e i pezzi dell'impalcatura con il materiale residuo. Le piogge dilavarono le tracce del lavoro degli scalpellini, ma il paesaggio non poté legarsi al ponte, né il ponte al paesaggio. Visto da lontano, il suo arco bianco, arditamente proteso, rimase sempre come staccato e solitario, a sorprendere il viandante come un pensiero curioso, smarrito e catturato nel carso, impigliato nella natura selvaggia. Chi racconta è stato il primo a voler capire e conoscere le sue origini. Fu una sera che, mentre tornava dalla montagna stanco, si era seduto sul muretto di pietra del ponte. Erano torri di giornate estive e con notti freschissime. Mentre appoggiava le spalle al ponte, lo sentì ancora caldo della giornata. L'uomo era sudato e da ladrina arrivava un vento fresco. Il contatto con il marmo levigato e caldo era piacevole e strano. Si capirono all'istante. Fu allora che decise di scrivere la sua storia. Fine. Il racconto che ho appena letto è, come avete potuto sentire, il Ponte sulla Gepa. Il Ponte sulla Gepa è considerato da molti studiosi come una sorta di canovaccio, di base, che poi è stato utilizzato da Ivo Andric per costruire quello che è il suo lavoro più conosciuto e più celebrato, che è appunto il Ponte sulla Drina. In effetti i due racconti presentano molti elementi paralleli, molti elementi di comunanza. Io ovviamente mi asterrò dal fare considerazioni di carattere letterario che non mi appartengono e che lascio appunto ai più esperti, mentre farò semplicemente alcune considerazioni di carattere storico che secondo me sono interessanti. Innanzitutto si può dire quasi che il Ponte sulla Gepa sia una specie di racconto condensato del romanzo Il Ponte sulla Drina. Innanzitutto vi è anche una continuità, vi è anche, scusate, un collegamento di carattere geografico, se vogliamo. La Gepa è un fiume che è più piccolo della Drina e tra l'altro è un affluente della Drina, quindi è come se questo racconto poi fosse, che è stato scritto prima del Ponte sulla Drina, come se confluisse per l'appunto nella, in quest'altra storia, nel romanzo che successivamente prenderà forma. Però ecco quello che mi ha colpito di più è uno dei protagonisti, non tanto l'architetto italiano quanto la figura del Gran Vizir Yusuf, che richiama molto, un'altra figura che è quella del del Vizir, del Gran Vizir che noi troviamo nel Ponte sulla Drina che invece è Mehmed Pasha Sokolu o Sokolovic, se lo vogliamo dire, se vogliamo utilizzare il suo cognome slavo, perché entrambi sono originari della Bosnia. L'unica differenza è che mentre Mehmed Pasha Sokolu è stato un personaggio che è esistito davvero, veramente, e ha ricoperto importantissimi incarichi all'interno del governo ottomano fino a raggiungere la vetta del potere diventando Gran Vizir per ben tre volte e ricoprendo in un arco di 25 anni o poco più questa carica, a fasi alterne, il nostro Yusuf, protagonista del Ponte sulla Jepa, invece è un personaggio di finzione. Però troviamo degli elementi di comunanza fra queste due persone, fra questi due personaggi. elementi di comunanza che potrebbero sembrare, magari a qualche osservatore un po' più attento, un po' particolari, soprattutto se non si è molto addentrati all'interno del mondo ottomano, di come funzionavano un pochino le cose. Vediamo un pochino di andare un po' più a fondo. Dunque abbiamo visto che Yusuf, per l'appunto, era un Gran Vizir, quindi da un punto di vista europeo, se così possiamo dire, ci aspetteremmo che questa persona facesse parte di una famiglia nobiliare o che venisse da un circolo di potere ben consolidato. Troviamo però degli elementi in questo racconto che ci mettono un pochino in crisi. Innanzitutto viene detto che Yusuf era un bambino quando a un certo punto lascia la Bosnia. Il racconto dice esattamente, si ricordò della Bosnia nel villaggio di La Cepa da cui l'avevano portato via quando aveva nove anni. Questo è un appunto che ci fa capire che questo Gran Vizir, che Yusuf, è stato per l'appunto portato via forzatamente dal suo villaggio. Non è stato portato a Costantinopoli o Istanbul per diventare poi un Gran Vizir. Quindi già questo è un elemento, come dire, particolare. E poi vediamo che assolutamente, vediamo che la sua carriera ha seguito un percorso che certamente sarebbe inaspettato per qualunque nobiluomo europeo. Addirittura veniamo a sapere che i suoi genitori sono morti quando lui era ancora lo stalliere. Qui dice l'imperatore, però sarebbe più appropriato dire il sultano, ma non oso come dire e contestare Ivo Andric. Quindi un bambino che viene portato via dal suo villaggio, che arriva nei palazzi del potere dove per l'appunto diviene stalliere e poi pian piano, a un certo punto, lo ritroviamo Gran Vizir. Questo è un fenomeno che nell'impero ottomano può sembrare strano, ma era abbastanza comune. Infatti il nostro Yusuf era stato vittima di una pratica chiamata Derfshirme, che era una pratica molto utilizzata dal XV fino al XVII secolo, fino alla fine del XVII secolo, quindi alla fine del Seicento. Anche se, diciamo, negli ultimi tempi la cosa era andata molto scemando. In che cosa consisteva? In pratica, come sapete, l'impero ottomano aveva un'estensione molto importante, molto grande. I sultani avevano conquistato la gran parte dei Balcani e che cosa facevano? Ogni tanto mandavano i loro uomini in territori abitati fondamentalmente da cristiani, che erano considerate tra l'altro popolazioni protette, secondo i dettami del Corano, i cosiddetti dimmi o popoli del libro. E in pratica dalle famiglie cristiane venivano prelevati bambini maschi, venivano scelti questi bambini per venire poi portati a Istanbul, a Costantinopoli, dove venivano innanzitutto convertiti all'Islam e poi venivano sottoposti ad un'educazione e ad un apprendistato che li avrebbe preparati ad una carriera che per noi sarebbe totalmente inaspettata. Infatti, a seconda anche delle loro qualità, venivano selezionati per ricoprire diversi ruoli. La maggior parte di loro finiva per rimpolpare le fila dei famosi giannizzeri, che erano truppe di elite ottomane che poi avranno un ruolo fondamentale non soltanto nel corpo militare. Insomma, i giannizzeri saranno una colonna portante dell'impero per molto tempo, per molti secoli. Però chi invece aveva delle qualità di governo, chi aveva carisma o chi era ritenuto molto capace, finiva per scalare i ranghi del governo e diventare un uomo di palazzo. Per esempio, Mermed Pasha Sokolovic, che era tra l'altro il figlio di un preto ortodosso, viene preso e portato a Istanbul e da lì poi pian piano ricopre, oltre alla carica di Vizir, anche quello di Capudan Pasha, che era il grande ammiraglio della marina ottomana. E ci sono infinite figure di questo tipo. Nell'impero ottomano, quindi, non abbiamo una nobiltà di sangue come quella europea. Noi abbiamo persino degli schiavi che diventano Gran Vizir. Io personalmente ho studiato la figura di Husref Mermed Pasha, che sarà Pasha di Bosnia e diventerà anche Gran Vizir. E questo era uno schiavo, uno schiavo di origine caucasica che arriverà anche lui alla carica di Gran Vizir, che sarà poi uno dei precursori di quella che diventerà poi la Tanzimat, che sarà una delle grandi riforme che metterà l'impero ottomano nella prima metà dell'Ottocento, se vogliamo dire così, al passo con le altre potenze europee. Dicevo, il meccanismo del Der Schirme quindi consentiva questo tipo di dinamiche molto particolari e che sono sicuramente uniche e che non troviamo nel nostro contesto occidentale. Tant'è che molti commentatori del tempo detestavano, prendevano in giro questa pratica considerandola una barbarie ma anche come un segno di inferiorità. Alcuni diplomatici europei che venivano da famiglie nobiliari di grande tradizione, famiglie nobiliari in molti casi antichissime, spesso si ritrovavano a dover contrattare con quelli che erano figli di contadini o nel caso di Mermelso Collu, figlio di un prete. Quindi non accettavano spesso di ritrovarsi alla pari con personaggi provenienti da contesti più umili e che loro consideravano in molti casi inferiori. Soprattutto questo rodeva loro quando l'impero ottomano era all'apice della sua potenza ed era una macchina militare di grandissimo rispetto e che faceva tremare i polsi. La pratica del Der Schirme, per concludere, era una pratica che le famiglie cristiane detestavano, cristiane sia ortodosse che cattoliche, non amavano. Ovviamente nessuno voleva che i propri figli venissero presi e portati via. Però ad un certo punto, quando ci si rende conto che per i propri figli c'è una possibilità di poter salire la scala sociale, l'ascensore sociale diremmo oggi, in maniera così importante, vi erano casi per l'appunto in cui le famiglie stesse offrivano i loro figli a coloro che venivano a prenderli. Abbiamo addirittura casi in cui le famiglie stesse musulmane che erano esentate da questo tipo di tributo, se così possiamo dire, offrivano i loro figli per dare loro un futuro migliore. Quindi, come vediamo, una schiavitù in alcuni casi accettata ben volentieri perché fuori era di grandi vantaggi e di un futuro migliore per i propri figli. Anche perché va sottolineato un altro elemento, e con questo concludo, i ragazzi che venivano presi spesso mantenevano i contatti con le famiglie di origine, con i loro genitori. E questo, nei casi più fortunati, poteva anche significare non soltanto la scalata sociale del ragazzo, ma anche la scalata sociale di tutta la famiglia, anche all'interno dei contesti in cui essa viveva. Quindi è facile capire anche il vantaggio di tutta questa situazione. Era, in alcuni casi, un investimento, un investimento sul futuro. E se fosse andata bene, era come vincere un ternallotto in cui ci guadagnavano tutti. Ci guadagnava il governo ottomano, selezionava e plasmava negli anni più floridi e importanti nuovi giovani leve, ma anche ci guadagnava la famiglia che poteva contare eventualmente su qualcuno a cui andare a bussare al governo di Costantinopoli e alla sublime porta per ottenere vantaggi e favori. Vi ringrazio per l'attenzione che mi avete prestato e ci risentiamo alla prossima.